Ciao bellissime! Allora, vabbè, ora qui vedete la cover, non vi preoccupate, non è il video sulla cover, non mi sono sbagliato a scrivere il titolo, ma questo qui è un piccolo concorzino. Allora, praticamente pubblicizzerò la vincitrice o il vincitore e lo saluterò per una settimana, pubblicizzarlo forse 3-4 giorni, ora vedo. Comunque, salutarlo tutte le settimane. Il regolamento per partecipare è iscrivervi, alla fine dei 10 iscritti io farò assorteggio, iscrivervi prima dei 10 iscritti, poi ovviamente vi potete iscrivervi anche dopo, magari farò un concorso vicino ai 15-20 così. E scrivere sotto mi sono iscritta, barra iscritto, così potrò fare il sorteggio. Quindi nulla ragazze, questi sono il regolamento, lo so è stato un video brevissimo, però niente, questo qui era quello che vi volevo dire. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, vi pubblicizzerò per 3-4 giorni e vi saluterò per una settimana. Ah, avete tempo fino al 15 marzo 2013. Un bacione ragazzi, ciao!